Un motore da più di 100.000 cavalli? Quello che vedete è l'albero motore del Wardsila Sulzer 14RTA96C, il motore diesel a due tempi turbo-compresso più grande e potente al mondo, prodotto dalla Wardsila, un'azienda finlandese e utilizzato come propulsore navale sulla porta-container Emma Mersk dal 2006. È disponibile in nove versioni, con una cilindrata complessiva di oltre 25.000 litri e un peso di 2.300 tonnellate. Ha un regime di rotazione molto basso, tra 92 e 102 giri al minuto, ma ha una potenza impressionante di 109.000 cavalli. Il motore è caratterizzato da un design modulare ed è dotato di dimensioni straordinarie, con un alesaggio e corsa di 960 mm e 250 mm, sufficienti per contenere almeno due uomini adulti all'interno del cilindro. Se siete appassionati di meccaniche e megastrutture, questo canale fa per voi!